bentornati ragazzi sul canale tutto tech oggi ci siamo finalmente e per l'8 e 9 di ottobre con le offerte prime mi raccomando vi lascio qui sotto il link in descrizione di tutti i prodotti che adesso vi presenterò alcuni hanno veramente dei forti sconti vi basterà semplicemente cliccare sul link che vi rimanderà direttamente alla pagina amazon e potete tranquillamente effettuare l'acquisto quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere i prodotti che vi consiglio partiamo con la fire tv stick 4k è una fire stick ed è un prodotto che si collega direttamente ai televisori e rende qualsiasi televisore smart venduto a 36 euro e 99 andiamo poi su un'altra fire stick la fire tv stick diciamo abbastanza basilare streaming in hd venduta ad un prezzo di 26 euro e 99 andiamo poi sulla versione eco dot di quinta generazione modello 2022 un suono buono ed è venduto ad un prezzo di 24 euro e 99 sicurezza da esterno quindi se volete video sorvegliare le parti esterne di casa vostra vi consiglio questo kit di blink outdoor sono quattro videocamere e vengono vendute a 123 euro e 99 andiamo poi sul ring intercom ho fatto il video pochissimo tempo fa quindi andatelo tranquillamente a vedere dove vi spiega che questo prodotto renderà smart qualsiasi citofono dovete controllare sempre la compatibilità tramite il link che viene messo qui sotto inserite tutti i dati del vostro citofono e per maggiore sicurezza vi consiglio di andare a vedere anche sul loro sito quindi andate sul sito ring inserite le medesime caratteristiche e vedete se c'è compatibilità date un'occhiata approfondita sulla compatibilità e eventualmente chiamate anche l'assistenza questo viene venduto ad un prezzo eccezionale di 39 euro e 99 andiamo poi su una novità del 2024 eco spot metà monitor metà cassa suono buono con tantissime animazioni nuove che hanno implementato sui dispositivi con lo schermo venduto a 59 euro 99 questo potrebbe essere un'idea per sostituire la vostra vecchia radiosveglia altra novità del 2024 eco pop compatto buon suono che esce da questo prodotto e questo viene venduto a 19 euro andiamo poi sulla versione eco show quindi eco con lo schermo da 5 pollici avete la possibilità non solo di ascoltare la musica o il notizie le news e tante altre cose ma qui avete anche la possibilità di vedere in streaming tantissimi canali e in più avete anche la possibilità la mattina di farmi partire il vostro telegiornale preferito prezzo 59 euro aumentiamo un po i pollici eco show 8 di terza generazione medesime caratteristiche del precedente ma con uno schermo un po più grande venduto a 109 euro e 99 se poi vogliamo andare sui pacchetti abbiamo il bundle eco dot di quarta generazione più una lampadina philips a 74 euro 99 questo potrebbe già andare bene per quelle persone che vogliono approcciare al mondo della domotica e capire come funziona abbiamo una telecamera da interni sempre della casa blink mini 2 hanno migliorato parecchie funzionalità e qualità d'immagine della precedente con tantissime caratteristiche che servono a video sorvegliare casa vostra nella maniera ottimale venduta a 23 euro 99 abbiamo poi un'altra videocamera da interni una forma leggermente diversa è una ring videocamera interna di seconda generazione con cavo di alimentazione questa viene venduta a 39 euro e 99 videocamera da esterno ma con annessi faretti la blink outdoor flood light questa dà la possibilità di illuminare molto meglio quindi di far funzionare ancora meglio le riprese della vostra videocamera della vostra video sorveglianza esterna perché magari la zona che volete video sorvegliare anche con gli infrarossi risulta un po più non nitida da vedere quindi con l'ausilio di questi faretti c'è la possibilità di vedere ancora meglio eventuali movimenti che ci sono in quella zona venduta a 54 euro 99 e poi abbiamo l'eco auto il nostro assistente vocale ci segue anche in auto in modo tale che possiamo remotare tutta la domotica di casa tranquillamente anche dalla nostra auto venduto ad un prezzo di 44 euro 99 blink mini pan tilt telecamera di video sorveglianza della blink ma con annesso sotto un motorino che dà la possibilità di ruotare la vostra telecamera sia sull'asse orizzontale che quello verticale per video sorvegliare ogni angolo di casa vostra venduta ad un prezzo di 26 euro 99 aumentiamo ancora un po di più i pollici con un eco show 10 dalla possibilità oltre ad avere una cassa importante per ascoltare al meglio la musica lo schermo ruota quindi vi seguirà ogni qual volta farete una videochiamata o magari state semplicemente seguendo una ricetta in cucina e muovendovi per prendere i vari attrezzi o ingredienti vi continuerà a seguire in modo tale che voi possiate leggere tranquillamente e ascoltare la ricetta prezzo 199 euro 99 questi erano alcuni prodotti che secondo me vale la pena mettere alla vostra attenzione sottoporre alla vostra attenzione perché sono prodotti che secondo me per chi deve cominciare a toccare con mano come funziona la domatica di casa tra virgolette low cost o chi invece vuole ampliare la gamma di prodotti che in casa questi sono prodotti che fanno al caso loro quindi che voi siate neofiti o siete un po più esperti approfittate di questa occasione io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi